Benvenuti nel canale Meli Made in Sud. Come avrete letto dal titolo, oggi vi propongo il video dei preferiti del mese. A me piace molto questa tipologia di video perché è un po' un ripulisti di quello che ho fatto durante il mese. Quello che ho fatto principalmente nel mese, ovviamente quello che riguarda tutto ciò che posso e scelgo di condividere, non è tutto ma ci siamo capiti. Come ben saprete ormai da qualche annetto, i video preferiti del mese sono in collaborazione con la mia carissima amica Roberta del canale Roberta Gemme. Lei ha lo stesso nick sia per quanto riguarda il contatto Instagram che per il suo canale YouTube. Vi metto qui il nick di Roberta e tutti i riferimenti giù in infobox. Nel momento in cui sto registrando non so ancora, visto la dolce notizia, poi sarà lei a dirlo. Non so se potrà esserci questo mese insieme a me per condividere anche quelli che sono i suoi preferiti del mese. Io spero di sì, anzi credo che ci sarà e siccome in questo momento non lo so ancora perché sto registrando, o adesso o meno più a volte ci sono dei momenti dove, vabbè in tutte le cose è così, o fai una cosa o non la fai e quindi mi sono detta adesso lo registro il video. Comunque causa impegni o non impegni, Roberta ci sarà sempre nella mia intro proprio perché questa collaborazione è nata insieme e di conseguenza mi viene dal cuore parlare anche di lei. Speriamo in bocca al lupo che ci sia anche il video di Roberta. Ovviamente se Roberta registra il video lo vedrete online contemporaneamente e giù in infobox ci sarà il link diretto al suo video gemello. Roberta io ti mando un bacio grande, 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 grande e adesso parto con i miei preferiti del mese. Il primo preferito del mese sono le scatole di latta. Io ho sempre avuto questa passione delle scatole di latta tramandatami da mia nonna, sia da mia nonna materna che da mia nonna paterna, ma per una questione di vicinanza, ho vissuto vicinanza geografica, ecco. Ho vissuto maggiormente con la nonna materna e lei ha sempre utilizzato queste scatole di latta, le ho utilizzate per tante cose. Ricordo questa scatola col mazeppa di bottoni, le scatole dove all'interno c'erano tutte le forbicine, le cose per la manicure, la pedicure, l'altra scatola dove aveva ago e filo, insomma le utilizzava in tanti modi e le utilizzava quando preparava i biscotti con le sue mani e le andava a riporre all'interno di queste scatole. Ho questi ricordi impressi nella mente e anche nel cuore e darei qualsiasi cosa per tornare indietro, anche se diciamo non si dovrebbe guardare molto al passato, ma lo dico con estrema dolcezza, perché appunto erano dei momenti estremamente spensierati e adesso con le varie situazioni che sono successe, con la perdita di persone a me care, tra cui anche la mia nonna, non è più come prima. Ecco, ma non voglio intristirvi più di tanto, che significa che voglio intristirvi un poco? Ma non lo so, sono sicura che avrete anche voi tanti tanti ricordi e se vi va scrivetemelo giù nei commenti, soprattutto se avete dei ricordi legati alle scatole di latta. Questo mese ne ho acquistate un bel po', quindi vi faccio vedere quello che ho acquistato. In realtà chi mi segue da un po' di tempo le avrà viste nei miei svuotaspese Eurospin, perché queste sono state acquistate tutte da Eurospin. Allora, la meno recente è questa, ha questo dipinto bellissimo, bellissimo, io amo l'impressionismo, mi trasmette una serenità unica, proprio mi suscita delle emozioni di serenità e di dolcezza, e quindi c'erano tre quadri differenti, tre rappresentazioni differenti, ed io scelsi questa con all'interno i cioccolatini, ve la faccio vedere ovviamente vuota. Poi, presi questa rotonda con la volpe, la volpe, la renna, scusatemi, ogni tanto sentite la voce un po' nasale e l'allergia, vi chiedo scusa. Io ho anche la versione con la volpina, questa volta mi sono presa la renna, non la apro perché è sigillata, all'interno sono presenti i biscotti al burro, peraltro sono buonissimi, le scatole sono molto molto belle, e l'ultima scatola che ho acquistato da pochissimo è questa, al suo interno c'è il panettone, ve l'ho fatto vedere anche nel video, questa mi piace tantissimo, anche perché è molto grande, qui ci potete mettere veramente tante cose, per esempio potete mettere, se non la volete esporre in cucina, la potete mettere anche negli armadi, con all'interno dei foulard, avete presente i foulard da collo, quelli piccolini, oppure che so, i guanti, tutto quello diciamo, che può contenere questa scatola, le sciarpe no, perché ecco la confezione non è molto grande, ma per i foulard e i guanti da conservare, con l'apposita carta protettiva, secondo me può essere una bella idea, così da sfruttare queste scatole, io non amo contornarmi di troppe cose, sia all'interno dei mobili, sia fuori dei mobili, e quando entra qualcosa a casa, ne devono uscire prima 5 o 6, perché sì mi piace il calore, l'accoglienza, qualche oggetto decorativo, però troppe cose mi danno fastidio, sia a livello visivo, ma anche a livello pratico, quando vai a pulire, a sistemare le varie cose, comunque tutto questo va pochio, per dire che questo mese è stato veramente, un inno alle scatole di latta, il mio secondo preferito del mese, ha a che fare con la dolcezza, allora sono della Dolciando, e sono i cracker dolci con frutti di bosco, hanno il 37% di farcitura alla frutta, e sono delle monoporzioni, sono 5 monoporzioni da 43,6 grammi di prodotto, che dire, sono buonissime, io le ho amate sin dal primo assaggio, perché hanno caratterizzato questi ultimi giorni, perché facendo freddo, iniziando questo freddo autunnale, che sta pian piano mutando in freddo invernale, al pomeriggio soprattutto, iniziava ad avere, ed inizia ad avere, quel freddo, avete presente quel freddo nelle ossa, che avete, sentite il bisogno di riscaldarvi, di avere qualcosa di caldo, che so, la borsa dell'acqua calda, il plaid, la copertina, e il biscottino, ecco, quindi questi hanno caratterizzato, i miei pomeriggi, sono molto molto buoni, qui c'è scritto che all'interno c'è questa confettura di frutti di bosco, ma io quando li mangio, ci sento i fichi, cioè io sento il sapore dei fichi, e mi sa che non sono la sola, perché me l'ha detto anche mamma, me l'ha detto anche qualche ragazza in privato su Instagram, e me l'avete scritto anche sotto al video, dove ve li mostravo, c'è anche la versione alla mela e alla cannella, anch'essa molto molto buona, ma per una questione di sapore, questi sono i miei preferiti, sono anche monoporzione, vedete, quindi voi aprite il vostro pacchetto, consumate i tre cracker, e vi concedete questa coccola, anche con un buon libro, oppure con una serie tv, oppure con un documentario, o semplicemente col profumo anche di una cannella, e dopo capirete il perché, vi rilassate con veramente poco, per rilassarsi serve davvero poco, non dipende tanto da quello che fate, ma da come vi sentite in quel momento, cioè soddisfare quelli che sono i veri bisogni, secondo me quello permette all'essere umano di rilassarsi veramente, senza andare in cerca di chissà che cosa, perché poi è vero che sono belle le cose in grande, ma la vita è fatta di tanti giorni, semplici giorni, nella vita quotidiana, nel tram tram delle cose da fare, eccetera eccetera, delle varie difficoltà che insorgono, prendersi quella pausa, quei dieci minuti, quel quarto d'ora, sì, con una tisana e un biscottino, secondo me fanno la differenza, io dopo mi sento molto meglio, mi sento anche rigenerata, perché appunto mi fermo completamente, e ve li consiglio, ve li consiglio in riferimento sia ai cracker, ma anche al prendervi una piccola pausa, in base alle esigenze, possono essere cinque minuti, dieci, un quarto d'ora, una mezz'ora, ma anche solo cinque minuti fanno la differenza. Adesso ho preso un caffè di caffeinato, ovviamente non fanno per me, tralasciamo, un preferito del mese, il penultimo preferito del mese, è un ammorbidente, allora, è il Lenore, intensamente io, della fragranza vivace, ci sono tre tipologie di fragranze di questa linea, linea ideata, o meglio, linea in collaborazione con Ilari Blasi, tra Ilari Blasi e la Lenore, infatti qui c'è scritto by Ilari, questa è la confezione, ha questo celeste, questo blu, questo oro bellissimo, vi dice che è per 56 lavaggi, ma la scritta 56 lavaggi, anziché 40 lavaggi, lascia il tempo che trova, perché dipende sempre da caso a caso, è da un litro e 400, intensamente io, vivace, si adatta a personalità energiche e grintose, una fragranza fresca con note floreali, allora, io non amo le note floreali, nel senso che a me piacciono tutte quelle profumazioni estremamente fresche, le profumazioni che stanno di pulito, del classico ammorbidente per intenderci, e in generale mi piacciono tutti gli ammorbidenti con il pack celeste o blu, quindi le confezioni con questa colorazione, perché in genere viene associato a questa colorazione, una profumazione molto fresca, di questo me ne sono innamorata, e voi direte perché è stato il tuo preferito, perché, allora io quando, ogni volta che faccio il cambio di stagione, lavo i capi e li conservo, quando li tiro fuori, sono super profumati, ma dopo un utilizzo, due utilizzi, li vado a rilavare, non mi chiedete perché, ma ne sento proprio il bisogno, è come un voler andare a rinfrescare, non solo il profumo degli stessi, ma proprio le febbre, i tessili, e lo faccio soprattutto, per quanto riguarda le federe dei cuscini, e sciarpe i cappelli, e anche i guanti, quelli che si possono lavare ovviamente, è spettacolare, questo non è un ammorbidente, è un profumo letterale, un profumo a tutti gli effetti, è molto fresco, molto avvolgente, quando passa lascia la scia, ma non è una scia fastidiosa, ma è come dire, sono passata di qui, ti lascia un gradevole profumo, un gradevole sentore, che vi avvolge completamente, dovete amare le profumazioni fresche, che ve lo dico a fare, ma questa è spettacolare, resta tantissimo sui capi, ammorbidisce anche molto bene, le fibre dei tessuti dei capi, e quando l'ho messo dei capi lavati, con questa ammorbidente, non c'è stata una volta, che non sono stata fermata da qualcuno, e mi è stato chiesto, mi scusi, che profumo sta indossando, non è il profumo, è il Lenore, tanto è vero, che anche la maestra di Giulio, una volta mi fa, signora le posso fare una domanda, io pensavo che cosa fosse successo, e mi fa, no no signora non si preoccupi, tutto a posto, solo che io sento la cartella di Giulio, che profuma tantissimo, perché io ciclicamente, gli lavo la cartella, quindi utilizzo un sapone liquido, e poi utilizzo un pochino di, di questa ammorbidente, e mi fa, signora quando il bambino entra in classe, o meglio prima di entrare in classe, loro posano vicino alla classe, posano il giubbino, la cartella, queste cose qui, mi fa, signora si sente un profumo pazzesco, ma che cosa utilizza, e le ho detto che utilizzo, questo ammorbidente Lenore, spettacolare, poi dopo qualche giorno, la maestra mi fa, signora l'ho acquistato, perché poi, non si trovano ovunque, le ho detto il posto preciso, dove l'ho acquistato, e lei è andata subito a prenderlo, prima era Silvano, che stava entrando dalla porta, e già si sentivano, tutte le mandate, l'ultimo preferito del mese, e adesso capirete, è una candela, vi faccio vedere questa piccolina, ma io ho anche quella media, e di là in bagno, ma vi mostro questa, perché non ha lo stoppino bruciato, allora questa è una candela Yankee Candle, nella giara piccolina, si chiama Autumn Glow, è a un peso di 104 grammi di cera, questa è la candela, come si presenta da spenta, lo stoppino è in cotone, forse non tutti lo sanno, ma gli stoppini della Yankee Candle, sono in cotone, mamma mia, il profumo di questa candela, ma il profumo di questa candela, è qualcosa di spettacolare, mi ricorda anche un profumo, di alta profumeria, ma in questo momento, non me lo ricordo, ma è qualcosa di spettacolare, questa è una candela, uscita nel 2017, se non erro, 2016, no, forse 2017, appartenente alla collezione autunnale, Fall in Love, quindi è una, è un'edizione, abbastanza, vecchia, tra virgolette, perché comunque, dal 2017 ad oggi, sono passati diversi anni, e per questa tipologia di prodotti, diciamo che, sono passati diversi anni, non so se mi sono spiegata, ma penso di sì, e quando parlo, ma capisco solo lì, mamma mia, appartiene alla categoria, fresh, quindi ha le profumazioni fresche, e adesso vi dico, le note olfattive, me le sono scritte, perché avevo paura di sbagliare, allora, le note di testa, sono limone frizzante, è limone frizzante, le note di cuore, sono bocciole autunnali, e note erbace, le note di fondo, sono paciuli, fava tonca, e ambra dorata, allora, il limone frizzante, lo sentite, all'inizio, ma, non dura tantissimo, nel senso che, sentite questa punta, ovviamente io mi riferisco, quando accendete la candela, si sente, questo sentore di limone frizzante, effettivamente frizzante, molto fresco, ma, solo, nell'apertura, quindi, inizialmente sentite, questa, questa profumazione, e lo accostate appunto, a questo limone frizzante, successivamente, sentite, le note floreali, già ve l'ho detto un sacco di volte, a me non piacciono le profumazioni floreali, ma queste mi piacciono, perché, sono mitigate, e si incrociano, a questi profumi, erbacei, tipici, delle giornate, di ottobre, avete presente, quelle mattine soleggiate, di ottobre, dove magari, qualche giorno prima, ha piovuto, e quindi sentite quella freschezza, anche, dell'erba ancora bagnata, ancora umida, mamma mia, spettacolare, e poi, sul fondo, abbiamo, il paciuli, che viene, secondo me, modificato, un pochino, trasformato, non è il classico, sentore di paciuli, dalla, sia dalla fava tonca, ma anche dall'ambra, mamma mia, è spettacolare, questo profumo, mi piace tantissimo, e, che direi, è una profumazione calda, calda, ma nello stesso tempo, allora, per caldo, intendo un profumo caldo, e avvolgente, ma è un profumo fresco, caldo, nel senso di, profumo morbido, profumo che, mi ricorda, il legno bagnato, mamma mia, è, è qualcosa di, sapete cosa, a cosa, mi fa pensare, questa candela, quando la accendete, avete presente, la vendemmia, quando si va, a vendemmiare l'uva, non mi prendete, per pazza, ma io ci sento, anche un, un richiamo all'uva, all'uva scura, all'uva nera, l'uva, no, non all'uva nera, all'uva fragolina, si chiama così, uva fragolina, 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 come si chiama, l'uva che l'ha, la pezzerilla, la pezzerilla, e, quando si spegne, resta, nell'ambiente, una profumazione, molto delicata, cioè, si sente che, avete acceso, questa candela, perché il profumo, è riconducibile, a questa candela, ma, diventa, più, leggero, più sottile, e ricorda, un profumo femminile, infatti all'inizio, vi ho detto, ricorda tantissimo, un profumo di alta profumeria, femminile, ma in questo momento, non me lo ricordo, sì, fatemi, la cortesia, andate, in un negozio, e andate, ad annusarla, andate, 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 mamma mia, è qualcosa di spettacolare, e questa candela, mi ha accompagnato, mi sta accompagnando, in questi giorni, io la accendo sempre, al pomeriggio, perché la mattina, tra le cose, tra le varie cose da fare, e soprattutto, perché la mattina, tra le pulizie, e il far arreggiare casa, sta sempre tutto aperto, quindi preferisco, non accenderla, ma la accendo al pomeriggio, quindi, dopo aver mangiato, dopo aver sistemato, tutta la cucina, tutto il soggiorno, perché poi ho, l'ambiente aperto, mi metto sul divano, mi preparo la, la tisana, il biscottino, la copertina, e mi accendo, per una decina di minuti, questa, questa candela, a volte, sapete cosa faccio, mi accendo, il cammino di Netflix, quindi voi sentite, questa betulla scoppiettante, e questo profumo, che si associa, perfettamente, a questa legna scoppiettante, che è un qualcosa di, mamma mia, spettacolare, le piccole cose, della vita, e quindi, se non l'avete mai provata, andatela a provare, perché, secondo me, ve ne innamorerete, dovete amare il genere, però, ve ne innamorerete, secondo me, questa, piace tantissimo, anche agli uomini, questi sono stati, preferiti, del, del mese, spero di, vedere anche, il video, di Roberta, vi ricordo, i suoi contatti, Roberta Gemme, sia su YouTube, che su Instagram, giù in infobox, tutti i link, di riferimento, trovate anche, me, medesima, su Instagram, con il nick, meli.madeinsud, io rinnovo, il mio, abbraccio forte, e saluto affettuoso, a Roberta, e, a tutti voi, e noi, ci vediamo al prossimo video, come sempre, un bacio, un abbraccio, e un tarallino, qui, Grazie.